A Messina dove è saltato il consiglio comunale che doveva essere l'ancora di salvezza dalle dimissioni per il sindaco Cateno De Luca. Tutto rinviato al prossimo martedì, intanto De Luca è pronto a dimettersi i particolari in questo servizio di Francesco Triolo. 13 emendamenti inaspettati per Cateno De Luca che contava sull'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 per rafforzare la sua posizione e motivare la decisione di ritirare le dimissioni da sindaco già presentate e invece l'attività d'aula del consiglio comunale lo ha spiazzato. Il rinvio della votazione a martedì prossimo lo ha fatto imbufalire se le sue dimissioni dovessero essere ancora un blef. Questo De Luca lo sta portando avanti sino al limite massimo. Non è il ritiro, no, è per far fuori politicamente ovviamente questo quadro di consiglio comunale che continua a bloccarci e tenta pure quasi di condizionare o ricattare il sindaco. De Luca se la prende con tutti dai consiglieri comunali chiamati asini perché parole sue non sanno leggere il bilancio e rischiano di lasciare la città a secco di family card ai suoi antagonisti politici. L'ex candidato a sindaco Antonio Saitta, l'ex deputato Franco Antonio Genovese, il direttore generale dell'Asp, Paolo Lapaglia. Ma lo vedete che mi continuano a fare i chioti di Cristo? Perché ovviamente dopo che abbiamo quasi lavorato tre anni e stiamo risanando la città, ora questo palazzo municipale comincia a fare gola a quei gruppi di potere che l'hanno messa in ginocchio, che si sono mangiati Messina. Ricordatevi che sono stati gli amministratori di questi ultimi 15 anni, ricordatevelo perché glielo ricorderò io alla prossima campagna, imminente campagna elettorale. Elezioni alle porte, oggi più che mai quindi, con i primi movimenti che già stanno creando fibrillazioni perché all'orizzonte si preannuncia una sfida tutta ex-democristiana, nata nello stesso studio politico, quello del senatore Totò D'Alia, Cateno De Luca da una parte, l'ex ministro della pubblica amministrazione Gian Piero D'Alia dall'altra.